E' in scuola ciak! Perché la Basilica di Colle Maggio si chiama così? Ci sono due tipi di rispondere. Uno è quello sentimentale. Quella collina dove sta quella Basilica era fuori dell'Aquila, fuori delle mura. E al mese di maggio doveva essere uno spettacolo di verde, di fioritura, per cui quella collina lì dietro la vedevano come uno spettacolo naturale. Di piante fiorite, probabilmente i mandorli come la tradizione vuole. E soprattutto il verde. Era una collina ammantata di verde che al mese di maggio era piena di fiori. Oppure, è un termine che è venuto dopo, Papa Celestino che adesso sta lì, non è morto lì. E' morto nel Frosinate, a Fumone. La sua festa, la sua morte è il 19 di maggio. E facevano coincidere il ritorno delle greggi che erano lì nei pressi con la devozione a Pietro d'Amorrone, già divenuto San Pietro Celestino. E questa, la sua festa era il mese di maggio, il 19 di maggio. E questa, la sua festa era il mese di maggio. Perchè la vita santa si chiama così? Era un ingresso per essere perdonati dei peccati, cioè da peccatori venivamo fatti santi, innocenti, perdonati. E allora si entrava da peccatori e si faceva questo ingresso nella chiesa come figli di Dio, perdonati di ogni mancanza. E quindi quella porta era una porta di santificazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.